C'è vita su Marte? Si chiedeva David Bowie in una canzone di qualche anno fa. Adesso la risposta è forse. L'annuncio non è ufficiale, ma la scoperta della sonda Curiosity potrebbe dare una conferma importante. Il rover della NASA, in esplorazione del pianeta rosso, avrebbe trovato infatti tracce di molecole organiche, considerate i mattoni della vita. Le molecole organiche possono esserci anche senza la vita intorno, ma la vita non può esistere senza di loro, ha detto John Grotzinger, lo scienziato che guida le ricerche condotte con Curiosity. La presenza di queste molecole, insomma, non dà ancora risposte certe, ma i risultati delle analisi, attesi per il 3 dicembre prossimo, potrebbero confermare quella che ormai è un'idea di molti, che Marte, simile alla Terra per atmosfera, calotte polari e fenomeni meteorologici, potrebbe ospitare, o aver ospitato, la vita. Con le sonde Spirit e Opportunity è stato stabilito che su Marte scorreva l'acqua in epoche remote. Ad agosto la sonda Curiosity è sbarcata sul pianeta rosso e durante l'esplorazione del cratere Gale ha fotografato e raccolto materiale. La speranza ora è di scoprire in superficie qualche forma biologica fossilizzata e di trovare qualcosa di vivo tra i ghiacci del sottosuolo.